Musica Parla tanto di tradizione, di territorio, di innovazione. Sono parole che nella maggior parte dei casi ripetiamo come dei mantra, come delle filastrocche che non vogliono più dire nulla. Quello che chiamiamo territorio in realtà sono le persone che fanno le cose. Non sono i prodotti che dovremmo avere, che dovrebbero esserci, ma sono quelli che davvero ci sono. E a volte quelli che ci sono sempre stati e che ci saremmo aspettati e che vorremmo non ci sono più. E allora dobbiamo imparare a scoprire e a capire quali sono gli altri. Musica Noi cuochi, noi chef dovremmo imparare a capire che siamo in grado di informare, di influenzare i gusti, i desideri, le voglie di tanti e da un grande potere derivano grandi responsabilità. Musica Musica